ecco tempo di vivere visto il parcheggio le prime tende la vista a 360 gradi il camper la prima struttura un fionile la casa dove sto dormendo anch'io in alto la parte ristoro dunque quella per lavare i piatti questa è la parte ristoro dove si mangia in fondo dove c'è il manifesto accoglienza dove ci sono diversi manifesti che è la cucina esterna bimbi in quantità ciao ciao questo è l'elenco del workshop abisivari questa è la festa pista stalla l'elastico un gazebo dove si svolgono alcuni workshop un altro gazebo chiuso dove si svolgono gli altri workshop e la vista meravigliosa che c'è in questo posto un'altra parte un'altra parte questa è una proposta bella qui stanno parcheggiando qui stanno parcheggiando ci vogliamo dare la tua è sicuro guarda questo mi piace guarda il spallo eccoci qua guardate la vista le altre tende la struttura la struttura da dietro guardate che vista quella è la pianura padana e si vede tutta adesso vi devo salutare perché la batteria è proprio a terra ciao